Tu pensi di essere cambiato? Devo uscire per capirlo Perché Ma qui dentro sicuramente non penso di essere la persona che sono fuori Cioè sì, sono sempre io Però ci sono delle cose nuove Di situazioni che non ho sostanzialmente mai vissuto E quindi ovviamente dei nuovi comportamenti E magari non pensavo di avere Ma perché non mi era mai capitata l'occasione di viverli Devo capire se ora fanno parte di me O se sono solo contestualizzati Penso che sia questo Che sono sempre io Sono sempre me stesso Però magari sarò me stesso con qualcosa in più Una volta uscito da qui Magari uscirò da qui E non urlerò più ad assa a nessuno